I candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 25 settembre sono tutti abruzzesi e non paracadutati. Una squadra forte e capace, scelta da tutti i cittadini iscritti al Movimento con un metodo trasparente e democratico. Si è tenuto a dividenziarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, presentandoli alla stampa in Piazza Unione a Pescara. Alla Camera vengono ricandidate le deputate uscenti Daniela Torto e Carmela Grippa, al Senato la senatrice uscente Gabriella Di Girolamo. Daniela Torto è capolista nel collegio plurinominale, Carmela Grippa sia nel listino che nel collegio uninominale. Gabriella Di Girolamo è la capolista al Senato nel collegio plurinominale. Al collegio plurinominale per l'elezione della Camera sono candidati anche Livio Sarchese, avvocato e consigliere comunale a Franca Villalmare, Attilio D'Andrea, già collaboratore parlamentare, assessore al Comune di Sulmona, candidato anche all'uninominale L'Aquila. Al Senato nel collegio plurinominale gli altri candidati sono Fabio Stella, assessore al Comune di Chieti, già capo segreteria dei governi guidati da Giuseppe Conte e Franca Ursini, liquidatrice sinistri di Pescara. Per il collegio uninominale alla Camera Pescara il candidato è Daniele Caruso, vigile del fuoco di popoli. Al Senato nel collegio plurinominale Isidoro Malandra, avvocato di Casali in Contrada. Il vicepresidente Pettinari ha anche detto che quelli che ci lasciamo alle spalle sono anni difficilissimi, segnati in modo indelebile dalla pandemia mondiale e dalla crisi economica che ha generato. Il momento è delicato e tutti siamo chiamati con il voto a scegliere da che parte stare e il Movimento 5 Stelle ha rimarcato lo troverete sempre dalla parte dei cittadini e di chi tutela gli interessi degli ultimi.